un saluto a tutti al vostro tony in questo video voglio parlare del nuovo update è uscito infatti un tweet di caz ieri era domenica purtroppo la cattiva notizia è che non vedremo questo update giovedì prossimo ma sembra che uscirà il 7 agosto come tra l'altro era già stato anticipato dalla toyota corolla gr quella macchina tra l'altro molto interessante è già stato detto praticamente che sarebbe uscita 7 agosto e quindi date sarà quel giorno e quindi sarà non giovedì prossimo ma il lunedì successivo ci sono molte cose interessanti alcune sono anche particolarmente strane come ad esempio la presenza di un'ambulanza della toyota che personalmente non capisco molto bene quale potrebbe essere il senso di questo tipo di veicolo in un gioco di corse potrei provare a pensare magari in futuro ad uno swap mari col motore della toyota supra per farci un progettino un po un po mortale diciamo così un po pericoloso un po malavitoso e oppure magari per girare qualche scena per chi si diletta a fare qualcosa con un alto tasso di realismo una gara in cui succede un incidente arriva un'ambulanza quindi potrebbe essere anche un'idea per inserirla in qualche in qualche clip in qualche qualche video realistico diciamo così come avevo detto anche prima c'è a toyota corolla gr una macchina secondo me molto interessante perché per quanto simile alla yaris noi lo vediamo qui gr corolla morizio un motore derivato da quello della della yaris ovviamente con 300 cavalli la trazione integrale secondo me è anche più interessante perché è un po più grande è un po più larga ha una linea molto bella e passavolta allargati e il triplo scarico posteriore quindi è una yaris un po più grande un po più larga potrebbe essere molto interessante sinceramente quello che vorrei farci anche montare delle gomme da sterrato e provarla in un tracciato da rally seconda aggiunta è la corvette c1 del 58 qui ci dicono che la differenza dei gran turismo dal 4 al 6 in cui avevamo quella del 54 c'è questo modello leggermente più recente in ogni caso è un'ottima aggiunta secondo me ovviamente non è un'auto ad alte prestazioni però è un modello abbastanza iconico e a suo tempo stiamo parlando degli anni d'oro dell'america gli anni 50 ha veramente dato un' un'importanza alla la chevrolet ha dato veramente ridato lustro a questo questo nome e quindi è stata importante veramente per la storia della della chevrolet questa corvette dal punto di vista del collezionismo è giusto che sia un auto presente nella collezione di gran turismo 7 poi vi ripeto non è un'auto ad altre prestazioni è una classica sicuramente andrà fatto qualche piccolo setup per riuscire a farla andare ultima ma non meno importante anzi secondo me la più interessante delle tre è la maserati mc20 una vera e propria supercar della maserati è bellissima e tra l'altro manco fosse stato un segno del destino sabato il giorno prima della uscita del tweet mi è capitato di vederla in un bellissimo blu elettrico per strada è una supercar che sinceramente non vedo l'ora di provare anche perché la maserati comunque è sempre stata celebre per le sue berline ad altre prestazioni siamo ad esempio alla maserati 4 porte che è stata a suo tempo la berlina più veloce al mondo però questa è una macchina che è motore centrale trazione posteriore è molto più interessante secondo me dal punto di vista perché non è una berlina è una vera propria supercar qui parlano di 620 cavalli motore da soli 3 litri twin turbo però v6 quindi non potremmo aspettarci veramente delle prestazioni elevate parliamo di un 3 secondi nel 0 100 questa qui è quella che non vedo l'ora di provare fra tutte secondo posto la toyota terzo posto ovviamente anche se sarà sicuramente bello farci un giro però sarà bello farci qualche giro tranquillo e non tirato è la corvette c1 poi vi ripeto non trovo un gran senso di metterci un'ambulanza se non per fare qualche clip o per fare qualche progetto extra se sarà disponibile uno swap per provare a glicciarla o comunque a farci una macchina particolarmente pericolosa non si sa niente per quanto riguarda i tracciati personalmente quello che mi aspetto da questo update visto che da molto manca un'aggiunta di un tracciato mi aspetto l'aggiunta di una nuova pista come potrebbe essere silverstone come è uscito secondo delle ultime indiscrezioni ma potrebbe essere anche un circuito fittizio di quelli che erano già presenti nei precedenti episodi di gran turismo la storia io non ho altro aggiungervi purtroppo ora non resta che aspettare una settimana per questo update poi ovviamente lunedì prossimo non serve neanche che ve lo dico andremo direttamente a provarlo insieme non provare tutte le novità che andrà ad includere mi dispiace solo che c'è questo slittamento me l'aspettavo già per giovedì scorso non uscirà neanche giovedì 3 ma uscirà il 7 agosto comunque portiamo pazienza dai speriamo sia una un update all'altezza ragazzò io non ho altro da aggiungervi se volete rimanere aggiornati sotto i contenuti riguardanti gran turismo 7 mi raccomando iscrivetevi al canale attivate la campanellina e se volete chiedermi qualcosa fatelo pure nei commenti mi raccomando non perdetevi gli episodi del giro all'inferno verde dal martedì al giovedì e poi ovviamente non perdetevi domenica prossima l'episodio 0 della nuova serie toni gear e noi ci vediamo nel prossimo video ragazzoli intanto vi mando un super salutone ciao ciao a toni89 ciao a toni89 ciao a toni89 ciao a toni89